La scomparsa di Emanuela Orlandi è ancora avvolta nel mistero. Alcuni credono che la ragazza possa essere ancora in vita, mentre l'ipotesi più accreditata è che, a seguito di un probabile sequestro, possa aver perso la vita. Ad ogni modo, nelle ultime ore sono emerse delle novità sul caso che ha sempre tenuto con il fiato sospeso l'Italia. Infatti, sono state divulgate delle intercettazioni che vedono come protagonista Sergio Virtù, l'autista del boss della Magliana, Enrico De Pedis, il cui nome spesso ritorna nel caso Orlandi. Nello specifico, infatti, tre testimoni lo hanno indicato come il possibile rapitore di Emanuela. Nell'intercettazione telefonica, risalente al 2009, Virtù parla con la compagna dell'epoca. Lui ha capito di essere indagato da IPM, mentre lei è preoccupata e teme che il suo fidanzato possa finire in una situazione pericolosa. Nel corso dell'intercettazione, la donna racconta all'autista che, non riuscendo a prendere sonno, aveva fatto degli approfondimenti sul caso, di cui Virtù le aveva parlato, quello di Olanda, o Linda. A quel punto l'uomo la corregge, dicendo che si tratta di Orlandi. La compagna, quindi, gli chiede genericamente se c'è qualcosa di concreto, riferendosi alla possibilità che lui venga arrestato o indagato. Virtù cambia argomento, dicendo che ne parleranno a voce quando si vedranno di persona, e poi aggiunge che ora dovrebbe capire per quale motivo. Lui cambia così spesso il numero di cellulare. Durante l'intercettazione, la compagna assicura Sergio Virtù, che rimarrà comunque sempre al suo fianco, qualsiasi cosa possa essere successa o possa succedere. Virtù, a quel punto, ammette di essere stato in un ambiente particolare da giovane, in cui tutti erano scapestrati. Il presunto autista del boss della Magliana, però, aggiunge di non pentirsi assolutamente di quello che ha fatto in passato, avendolo fatto solo ed esclusivamente per soldi. Virtù aggiunge anche di essere disinteressato a ciò che ha fatto e queste parole, inequivocabilmente riferibili a quanto successo ad Emanuela Orlandi, fanno scattare le indagini. Sergio Virtù viene interrogato, ma nega fermamente di essere l'uomo, di cui si sente la voce durante la telefonata. La pista, però, viene lasciata cadere nel vuoto ed infatti non viene effettuata nemmeno una perizia. Per comparare la voce dell'uomo dell'intercettazione a quella dell'indagato, tantomeno viene fatto lo stesso con la compagna. Ad ogni modo, le utenze erano intestate in maniera incontrovertibile a Sergio Virtù, cosa che aumenta i sospetti su di lui, malgrado nel 2015 il caso di Emanuela Orlandi venga chiuso. Ora, alla luce dei nuovi dettagli che stanno emergendo sul caso nelle ultime ore, Pietro Orlandi e l'avvocatessa Laura Sgro stanno chiedendo che ci sia la riapertura del caso, e che vengano portate avanti nuove indagini. La prima a fare il nome di Virtù fu Sabrina Minardi, amante di De Pedis nel periodo del rapimento della Orlandi, la quale raccontò che, mentre si trovava con il boss della Magliana, venne raggiunta da Sergio Virtù che portava a bordo della sua auto, proprio Emanuela Orlandi. Quindi, ci sono molti dubbi ancora da chiarire che potrebbero risolversi, con una nuova indagine. Voi che cosa ne pensate? Avete seguito questo caso e credete che possa esserci davvero una riapertura delle indagini oppure no? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione. Trovi il link in descrizione.